Parietti, concessionaria esclusiva per Piacenza e provincia del marchio Rover e Alfa Romeo. Parietti, a Piacenza, via Maculani 42. Gli ultimi aggiornamenti sono che l'incontro che abbiamo avuto con il Ministro Affano ci sono dei margini di trattativa con le organizzazioni sindacali nel rivedere il piano. Vogliamo un piano che sia sicuramente più corrispondente alle effettive esigenze del cittadino, quindi una riduzione degli organici sì, però va fatta in maniera concordata insieme a tutte le altre forze di polizia e insieme alle organizzazioni sindacali che rappresentano anche gli interessi di quei lavoratori che hanno comunque acquisito delle specialità e delle specializzazioni che non possono essere sicuramente richieste in altri ambiti lavorativi. Ci sono gli istruttori della scuola, ci sono i colleghi che hanno assunto delle specializzazioni nei reati informatici e quindi vogliamo capire anche l'obiettivo finale dove impieghiamo il personale nel caso non si riesca a scongiurare la chiusura. Sono stati fissati dei tempi, delle tempistiche in generale? No, le tempistiche non sono state fissate, però sappiamo che i tempi sono stretti e quindi entro quest'anno l'amministrazione pensa di poter portare avanti il piano. Noi chiediamo una risposta politica, noi vogliamo sapere nell'agenda del governo Renzi la sicurezza che posto sta, quindi se sta avanti la sicurezza allora ragioniamo con gli operatori della sicurezza. Non si può parlare di sicurezza tenendo fuori i rappresentanti della sicurezza. Quindi i rappresentanti della sicurezza devono stare al tavolo dove si decidono tutte quelle iniziative che devono sicuramente rispondere all'esigenza del cittadino e dei lavoratori perché l'obiettivo finale è quello di dare un servizio e mettere in sicurezza la gente il più possibile con le risorse che abbiamo. A livello di polizia quali sono le principali esigenze in questo momento? Sicuramente è un investimento economico importante quello che chiediamo che sono i soldi per quanto riguarda la riorganizzazione delle carriere quindi rivisitare le carriere, un riordino in maniera tale da creare delle figure professionali in particolare gli ufficiali di polizia giudiziaria che da anni mancano nella nostra amministrazione per la mancanza di concorsi interni perché è dal 2002 che l'amministrazione non bandisce concorsi per sovintendenti e neanche per ispettori.